Quello che vi dirò sembra assurdo, ma dovete ascoltarmi. Da questo dipendono le vostre vite. Vedete, non è la prima volta. Che facciamo questa conversazione? Che giorno è? Il giorno del giudizio. Sei appena arrivato con le nuove reclute. L'invasione fallirà, come i soldati che state mandando. Perderemo tutto. Quando ti svegli, vieni a cercarmi. Tu sai cosa mi sta succedendo? Quello che succede a te è successo a me. Hai assorbito il loro potere. Devi aiutarmi. A fare cosa, esattamente? Vincere la guerra. Possiamo farcela. Vieni qui ogni giorno e ti addestrerò. Qualunque cosa io faccia, tu non vai oltre. perché dovrebbe importarti di me? Non sono un soldato. Certo che no. Sei un'arma.